In questa puntata di Vivere in Salute ci occupiamo dei Caffè della Memoria, un progetto attivato al centro di urno di Verbania e dedicato ai familiari delle persone con problemi di memoria e ai pazienti. L'iniziativa si svolge due volte al mese. Ad uno degli incontri abbiamo partecipato anche noi. Al centro di urno centro anch'io di Verbania abbiamo partecipato al Caffè della Memoria. Si rifà i Caffè Alzheimer che si stanno diffondendo in tutta Europa. Vuole essere un momento di confronto e di relax per le famiglie di persone con disturbi della memoria. Il progetto è finanziato dalle fondazioni comunitaria del VCO e Vita Vitalis e gestito dal CIS del Verbano in collaborazione con AFA e ASL VCO. Ecco cosa accade. Il primo e il terzo lunedì di ogni mese al pomeriggio familiari ai pazienti affetti ad Alzheimer si ritrovano presso il centro di urno Verbanese. Per una bevanda calda in compagnia, un pasticcino, un'occhiata alle riviste, una chiacchierata. È nato qua perché il periodo, lo sappiamo tutti, è un periodo molto difficile, scarsità di risorse, quindi difficoltà anche di sperimentare e di trovare nuove risposte ai bisogni. Il bisogno però delle persone con il malvolo d'Alzheimer è sicuramente molto diffuso. Noi stessi con il nostro servizio domiciliare, pur non occupandoci se vogliamo direttamente, però il servizio domiciliare segue già, credo, una trentina di persone che hanno di questi problemi. E quindi è nata un po' questa idea, soprattutto insieme agli altri partner. Noi come consorte siamo messi mettendo a disposizione A, il nostro personale che segue e quindi cercherà di aiutare in un modo o in un altro, ma soprattutto mettendo a disposizione la struttura. Noi abbiamo questo centro anch'io, centro di urno per le persone affetti da disabilità. Il lunedì pomeriggio i ragazzi non ci sono sostanzialmente, diciamo è libero. Il nostro desiderio è sempre stato quello di aprirlo alle esigenze della società, della città e quindi ci è sembrato bello fare questa cosa. È una cosa sperimentale, durerà dieci mesi, si vedrà poi nel proseguio se è una cosa utile, serve, se le famiglie seguono, ne traggono beneficio e speriamo in quel caso di poter continuare. Poi i presenti che desiderano partecipare alle attività vengono divisi in due gruppi, in spazi differenti, familiari da una parte, nonnini dall'altra. Per i primi l'opportunità di discutere e condividere i problemi quotidiani con personale specializzato, ma anche ginnastica e massaggi. Per i pazienti opportunità di stimolazione cognitiva e relazionale ed attività innovative come la DOL e la PET therapy. Perché è così importante un luogo come questo? È importante perché parlando di continuità assistenziale, quando si segue un paziente si va dalla situazione domiciliare al ricovero e nel percorso ci sono dei passaggi intermedi che sono fondamentali. Quindi per il paziente che è a casa, con i parenti, isolato dal mondo e che è ancora però in grado di uscire, di vivere una socializzazione, un posto come questo diventa di importanza vitale. Perché incontra i parenti, si incontrano fra loro e si intescambiano le loro problematiche. I pazienti vivono una situazione, una dimensione da bar carina e simpatica. Quindi credo che sia fondamentale proprio nel percorso della continuità assistenziale di questi pazienti. Tra l'altro con l'invecchiamento della popolazione sarà sempre più necessario? Certo così, certo che sì. E si spera assolutamente, stante il periodo di crisi attuale, che nel disegnare quello che è la continuità assistenziale dei pazienti, anziani e alzheimer, si tenga conto di realtà che non sono solo domicilio e residenza, ma anche di tutte queste situazioni intermedie che sono fondamentali. Tra l'altro questo è uno dei primi esperimenti a livello regionale? Assolutamente sì. La prova è che ho portato in regione, in un gruppo di lavoro, proprio sull'alzheimer, il volantino di questa iniziativa, e ha trovato un riscontro estremamente favorevole e un'iniziativa estremamente importante. Intanto l'esperienza sta raccogliendo una buona risposta da parte delle famiglie. Ma chi è interessato? Cosa deve fare per partecipare? Noi abbiamo ancora qualche posto a disposizione, è molto difficile dire quanti perché non tutti partecipano tutte le volte, però finora possiamo certamente accogliere altre persone e ci sono alcuni numeri telefonici che si riferiscono al gestore di questa iniziativa, che è il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, che li scriverà e darà tutte le istruzioni al riguardo. Abbiamo visto che la maggior parte di coloro che erano venuti la prima volta sono tornati e si sono aggiunte anche delle persone in più. Si vede che il passaparola funziona e questa esperienza che facciamo per una decina di mesi ci darà anche le indicazioni per poter continuare nel modo migliore. Fino adesso abbiamo visto che le persone hanno preso molto bene questa iniziativa. Voi state raccogliendo i feedback dei familiari, che cosa vi dicono di questa esperienza? Io trovo che i familiari stiano accogliendo questa cosa con un senso di gioia e di liberazione, perché non gli parvero di avere un posto dove poter venire e poter lasciare anche le persone, perché se vogliono andare a fare la spesa possono andare, oltre che trovare invece altri supporti per il rilassamento, eccetera. E mi sembra proprio che ci sia una grossa gioia, però la vedo anche nei pazienti, perché c'è gente appunto che dice che è bello stare qua in compagnia e stare in mezzo ad altra gente. E quindi direi che il riscontro è veramente positivo. E al secondo appuntamento con i Caffè della Memoria, come sta andando e che cosa le piace? A me piace tutto, ho trovato che anche per socializzare, a me non mi auguro che ci sia, perché c'è bisogno, perché nonostante tutto che sia in cura, ma sia soli. Che cosa avete fatto l'altra volta? L'altra volta ci ha presentato, ha spiegato quello che c'è, si è preso un po' conoscenza dell'ambiente. Primi passi nel Caffè della Memoria, com'è la prima impressione? Bella, è un ambiente invitante soprattutto per chi ha questo problema. E trovo che questa è un'iniziativa nobile presa da questi organizzatori che apprezziamo moltissimo, perché questa problematica dell'Alzheimer mette a dura prova chi deve assistere il paziente. Quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare per questa iniziativa e ci auguriamo che possa sortire il suo effetto ed essere di beneficio non solo per i nostri familiari, ma anche per noi che li assistiamo. È importante potersi confrontare con le persone che hanno gli stessi problemi? Credo di sì, sicuramente, perché non solo c'è uno scambio di incoraggiamento, ma c'è anche uno scambio di esperienze che possono servirci per assistere in modo più capace o specifico nei nostri familiari. Che cosa le piace e perché è utile secondo lei? È utile, perché io queste due settimane già mi sentivo più tranquilla, sapendo che c'è un gruppo e delle persone volontarie, che si dedicano veramente a questa cosa atroce. Perché è atroce. Insomma, il poter condividere anche questo dolore, ci si sente capiti? Sì, esatto, esatto. Non sono la sola e non sono sola, mi sento senz'altro. Adesso aspetto già il prossimo, tra 15 giorni, sarà la terza volta. Che cosa si fa qui poi? Si parla, ma si fanno anche delle attività. Sì, ci sono delle attività, mio marito e da un'altra parte. Io sono qui per imparare a scaricarmi un momento e anche trovare con l'insegnante un momentino di relax, proprio che può servire tanto. E poi è anche una cosa spirituale, mi aspetto anche una cosa spirituale che arricchisce in modo di andare ulteriormente incontro al marito, oltre che amarlo. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslevco.it oppure scrivere a vivereinsalutechiocciolaaslevco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.